e la ragazzi sono qui sono io sono la vostra jess abbiamo deciso di fare la whisper challenge quindi lei ha voluto iniziare mi invento una frase cazzo vediamo se la capisce certo quindi metto una musica a caso sì sì scegli quello che piace questo dai è figo sto qua non devi sentire un cazzo e quindi facciamo una prova come parte qua che non va devi scegliere una canzone bring me the horizon e non so parla mi senti? sì mi senti? no che bello tu senti se parlo così? no parla bene scandisci? si sente? cioè ragazzi ho il tipo che urla di brutto mi sta facendo spuntare i primi mi sta prendendo per il culo perché l'altro giorno l'altro giorno sono andata a comprare la carta ripeti? sembra di parlare con mia nonna sembra di parlare con mia nonna non è rapida la carta non è rapida la frase l'altro giorno aspetta l'altro giorno sono andata sono andata a comprare a comprare la carta ripeti? l'altro giorno sono andata a comprare la carta il latte? la carta l'alta? 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 ripeti? la carta? la carta? si merda ma cos'è ragazzi? ma sto parlando come un matto tocca a te o tocca a me? no adesso hai indovinato facciamo che abbiamo tre tentativi per indovinare se non indoviniamo ok 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 quindi tocca a me adesso a Sara hai indovinato la prima allora adesso ti rimetto quella che avevo io oddio beato io ce l'avevo così se mi metto parte di tutto cosa? adesso devo pensare mi senti? no adesso ci penso domani? no devo? devo? si andare da mia nonna andare? da mia nonna apprendere? no da mia nonna da mia nonna hai due possibilità eh? non ho capito domani devo andare domani devo domani devo andare da mia nonna a da mia nonna non capisco da mia nonna a Vignola da 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 tua mia domani devo andare da mia? da mia nonna nonna? sì altro che tre tentativi 18 non capisco dammi tu camera stoppa porca droga che cazzo hai detto? mi pare devo andare da mia nonna ok dopo che hai fatto 18 tentativi anziché tre ah ok perfetto vedi dopo ancora me posso dire la faccia in inglese dire la faccia in inglese o in francese anche posso aujourd'hui aujourd'hui eh è stronza in francese today today in francese era cosa? ma no in francese vabbè oggi oggi resto tutto il giorno da te scandisci bene resto tutto il giorno da te no non ci capisco un cazzo oggi resto tutto oggi oggi finque ci siamo resto resto leggi ma che incoglionita ragazzi resto il resto resto ti rilassi no si ma me basta qua è morita e poi c'è resto oggi resto resto leggi vabbè resto resto resti io resto oggi io resto tutto il giorno tutto il giorno da te da te esatto ok non è questo da te eh niente la stessa ok però che sono mille dopo quattro volte no va bene io sono più brava ma quando dovevi copiare a scuola come facevi scusa non copiavo eh sì sì c'è no tu non sai i casini madonna non copiavo dice come si fa a riprodurre madonna perché non faccio per l'avviso oh fai mi sento no ok quando ero bambina quando quando ero bambina quando ero bambina attaccavo le caccole al muro saltavo saltavo giù dal bus quando ero bambina quando ero bambina attaccavo le caccole al muro ripeti quando ero bambina attaccavo le caccole al muro andavo andavo da sola al buio quando ero bambina attaccavo le caccole al muro ripeti quando ero bambina e fin qua attaccavo le caccole al muro mi tagliavo da sola al buio è fadozza sono tre comunque attaccavo le caccole al muro che schifo allora pensavo una frase stronza eh non devi sentire fai indasso scusa ad halloween mi travestivo da Hulk ad halloween ripeti ad halloween mi travestivo da Hulk mi travestivo da Hulk davvero traumi infantili mi senti mi senti mi senti ok quando vado a pescare quando fai la pizza no quando vado a pescare quando fai la no quando vado a pescare quando vai a pescare sì pesco sempre peschi sempre dei pesci enormi pesci enormi come enormi enormi lombi enormi trote sì è arrivata enormi rombi enormi vabbè certo hai scazzato tocca ancora a te ho ho una dannata ho una dannata paura del buio scannisci bene ho una dannata due o tre gattese ho un cane una dannata una dannata una fottuta fortuna fottuta fottuta paura del buio paura del buio non ho capito paura del buio ma ma dove mica l'ha sentito paura del buio paura del buio di brutto del buio del buio sì gliela diamo buona eh dici che gliela diamo buona o non l'hai indovinato no è indovinato dai non riesco appena nelle ricche real love l'altro giorno l'altro giorno ho fatto una passeggiata ho fatto una bisticciata una passeggiata ok però questa te la conto comunque sbagliata l'altro giorno ho fatto una passeggiata eh ah l'altro giorno ho fatto una passeggiata con il cane con l'aria con l'aria con l'aria no con il cane con Sara no con il cane con Lila no con il cane sono andata l'altro giorno l'altro giorno sono andata a fare una passeggiata con il cane con il l'aria no con Filippo volontaria con i tuoi con il treno con il cali con il cane alleluia alleluia la Sara ti sento l'hai detto corriga e vabbè parla al mio passavoccio la Sara la Sara è è una tutta o nuda la Sara la Sara è è una cagna truccata no la Sara è una cagna una cagna sì come Jessica sembri sempre sembri 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 sì cosa ti cazzi sembri un camionista un camionista sembri un'abolita no un camionista un'abolita ma da dove cavolo ti è uscita quando ho finito di ridere poi ci vediamo fra mezz'ora forse un camionista sembri un camionista sembri una un 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 una un maschile una oh che faccio vabbè un camionista 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 sembri una lavorista camionista camionista mi hai sentito camionista quando quando parli parli con me e la Laura come la con me con me e la Laura e la Laura con la Laura e la Laura e la Laura si si io le faccio facili però dovrei considerarla indovinata o no vabbè faccio l'ultima io poi basta adesso tu e la Laura sogno la Laura no tu e la Laura sulla Laura tu e la Laura la tua laurea tu e la Laura tu e la Laura siete due grandissime porcone due grandissime prugne porcone porcone direi che mi hai stracciata non sono brava a leggere il piale mai stata ok spero che questo video vi sia piaciuto è stato un po così per passare il tempo e pensiamo ad un'altra cosa ne facciamo un'altra ok vai oggi tutto giorno challenge tipo mi vedrete un mese di video tutti vestiti nello stesso modo esatto gli sto registrando tutti lo stesso giorno quindi tranquilli non sono una merdona ah no quindi spero che il video vi sia piaciuto ovviamente continuerò a fare i video relativi alla mia condizione il 12 dovrà uscire il video sul sui quattro mesi di terapia mare che questi questi video challenge diciamo che sono un po colpa mia perché è depressa e cerco di tirarla su di morale quindi passiamo un po il tempo non volete meno male lasciate like commenti iscrivetevi se non siete ancora iscritti trovate i link dei miei social giù in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti